L'esperienza di partire da un letto per poi arrivare a fare una collezione di sedute non mi è mai capitato, però questo fa parte del nostro lavoro. Per ogni progetto che noi sviluppiamo ci sono dei percorsi che hanno delle tappe impreviste e quindi c'è anche un elemento di improvvisare. Ho cercato di pensare delle forme più consone al concetto dell'intimità. Volevo lavorare anche sull'idea della sospensione, l'idea anche della leggerezza, che è un aspetto materico, visivo, tattile, per generare questo prodotto. La parte denominata Raku lo considero un'estensione dell'idea di Neo, che sono una serie di imbottiti sedute che riprende il linguaggio, diciamo, l'aspetto formale del progetto del letto. Ho voluto dare un'anima unica a questa collezione divisa dalla prima parte, nella seconda parte, l'idea iniziale che poi è stata declinata e estesa per ottenere questa collezione che può essere interpretata singolarmente o anche come una collezione composta. Estendere questo racconto su funzioni, su tipologie di prodotto che possono funzionare bene all'interno della zona notte, ma anche possono uscire fuori in altre zone della casa, piuttosto che del contract. Grazie a tutti!